Buongiorno, mi chiamo Pietro Gioia e sono il veterinary manager di Forza 10 e siamo qui a supporto delle iniziative di formazione di Blue Vet insieme per l'eccellenza in questo primo congresso estivo di Riccione. La nostra presenza qui ovviamente ha un principale obiettivo e che è quello di dire al medico veterinario la nostra prossima innovazione in termini di sostenibilità in quanto Forza 10 ha lanciato e continuerà completando l'intera gamma i nuovi pack che saranno di carta, pack packaging del prodotto saranno di carta, carta riciclata e riciclabile e soprattutto anche compostabile nell'umido quindi come dire uno sguardo al green, al nostro pianeta e alla sostenibilità. Grazie.